Le novità sono quelle che il gruppo cresce, il festival cresce, l'importanza dei film che presentiamo cresce, gli ospiti che arriveranno a giugno crescono, crescono il loro carisma, la loro popolarità e chissà che ne vedremo anche a portare qui Hollywood quest'anno, però non posso dirvi di più di questa cosa, posso dire che da questo mese, gennaio, fino a arrivare a giugno sarà una grande cavalcata di film, di emozioni, di grande spettacolo, di cultura e anche di risate, di drammi, di lacrime, insomma di tutte le emozioni belle che può dare il grande cinema. A partire quindi da febbraio, marzo, aprile abbiamo l'ICFR Junior dedicato ai ragazzi e agli studenti, quest'anno introdurremo anche altre lingue oltre l'italiano e poi maggio e poi si arriva giugno, a metà giugno apriamo il festival, ripeto sarà un festival ancora più grande e importante rispetto ai grandi risultati che abbiamo ottenuto l'anno scorso, quindi già stiamo selezionando i film e stiamo ovviamente invitando i grandi ospiti che parteciperanno, seguiteci, Enzo sono sicura che mi seguirà e vi sveleremo piano piano chi arriverà a Torotto.